Sì, come se regolasse? Scrivi, dai. Grazie a tutti, eh! E poi non dicami che tu non ti pensi. Tu mi devi capire se sta un po' severo, eh? Vai, che stai andando su. Facciamo a fare le mie mani. Sai cosa? Qui comando io. Ciao, Pa. Tu non mi dovevi mancare di rispetto. Ok, ciao, Pa. Coleman, no! O怎么 Tábate Já... italiano ci sono delle novità in arrivo, dei work in progress, a partire dal nuovo film di Gabriele Mainetti, che pare stia lavorando ad un progetto misterioso, nel senso che non se ne sa ancora una cippa, e sono appena iniziate le riprese, però so che sarà coscieneggiato insieme a Nicola Guaglianone, con cui già aveva collaborato per Lo chiamavano Gigrobò. Il film dovrebbe intitolarsi Freaks Out, però potrebbe essere provvisorio e attualmente viene classificato come drammatico. Anche Matteo Rovere, dopo Veloce come il vento, tornerà presto con un nuovo film dal titolo Il primo re, una coproduzione italo-belga a sfondo storico, e nel cast vedremo Alessandro Borghi, Fabrizio Rongione ed Emilio De Marchi. Una particolarità del film è che verrà parlata una lingua ricostruita precedente al latino. Eh, allora, allora, ho destato la vostra curiosità? Presto vi darò maggiori dettagli su trama e dati di uscite, quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, mi raccomando. Ciao da Valeria. Ciao.